Consigliere Pignoli, è nata un'associazione, si chiama Patti e Pari, che avete presentato a Palazzo di Città. Di cosa si tratta? Beh sì, questa è un'associazione a me vicina e cara, che si è formata da qualche settimana, che intende aiutare le persone bisognose. Voi sapete che la mia azione amministrativa, ormai da 7-8 anni che vivo l'attività amministrativa comunale, si è sempre basata sull'aspetto dell'aiuto alle persone bisognose. Vuoi per la ricerca di un'occupazione, vuoi per il pagamento di bollette, vuoi per quanto riguarda fare domande per case popolari e quant'altro. Noi abbiamo ritenuto, questi miei amici hanno ritenuto fondare questa associazione con un vicepresidente, un avvocato, psicologi e quant'altro, perché ci siamo resi conto, mi sono reso conto in particolare ricevendo decine e decine di persone al giorno, che c'è molta difficoltà da parte delle persone di orientarsi in questo mondo finalizzato dalla pubblica amministrazione. Per cui ci sarà questa associazione a disposizione il venerdì presso il mio gruppo consigliare, che darà dei consigli anche su questioni di diritto penale, di maltrattamenti in famiglia, sia per uomini che per donne, perché lo stalking purtroppo non è diventato solo a discapito delle donne, ma anche degli uomini. Per cui ritengo che questa associazione faccia del bene nella città di Pescara, dove c'è veramente difficoltà, anche e soprattutto sotto questo punto di vista sociale. Grazie a tutti.